Ciao a tutti! Io sono Anna, io sono Cristia, io sono Giorgio, io sono Andrea, io sono Elisa, io sono Aurora. Ho scelto questa scuola perché anche parlando con i miei pensavamo che fosse l'opzione migliore per la mia promozione. Ho scelto questa scuola perché è definita scuola del futuro e avrò un lavoro che mi permetterà di andare all'estero. Ho scelto questa scuola perché ho capito che prima di essere un cittadino abruzzese e italiano sono un cittadino europeo. Ho scelto questa scuola perché il mio sogno è viaggiare intorno al mondo. Ho scelto questa scuola perché credo che le materie che facciamo ci forniscano le conoscenze necessarie in ambito internazionale. Ho scelto questa scuola perché purtroppo continuando gli studi posso avere subito un'opportunità di lavoro e quindi posso entrare a far parte del mondo del business. C'è un'Europa che vive, cresce e vibra nelle aule e tra i banchi dell'Istituto Tecnico Galileo Galilei di Avezzano. È l'Europa dei tanti ragazzi che hanno scelto di costruire il proprio futuro guardando a quella grande casa comune che è l'Unione Europea. Per farlo hanno deciso di intraprendere un corso di studi sperimentale in europrogettazione e lingua cinese. L'obiettivo del percorso didattico è quello di formare figure professionali specializzate nella elaborazione, nella gestione e nella rendicontazione dei progetti europei. Non solo, il percorso didattico ha come obiettivo quello di far conoscere l'Europa, sviluppandone ai ragazzi il senso di appartenenza e la partecipazione attiva all'Unione Europea. È un corso nato dall'esigenza del territorio di formare tecnici esperti nell'utilizzo delle risorse europee. È il primo corso in Abruzzo ed uno dei pochi del sud Italia che permette di avere dei sbocchi occupazionali immediati anche in contesti internazionali. Così facendo la scuola i nostri ragazzi si sono avvicinati all'Europa e alle istituzioni europee. I nostri iscritti sono in aumento con notevole soddisfazione anche da parte di molte famiglie. Il corso di europrogettazione prevede, tra le altre discipline, lo studio di diritto e relazioni comunitarie internazionali, economia aziendale, geopolitica ed europrogettazione, ma anche informatica, tecnologie della comunicazione e laboratori di scrittura professionale. I ragazzi di questa scuola sono chiamati ad assolvere un percorso scolastico molto impegnativo ma singolare, in virtù del fatto che si studiano delle discipline molto vicine alla nostra vita e sono molto contemporanee. Si intraprende questo percorso perché bisogna diventare dei professionisti esperti nell'europrogettazione, vale a dire nel saper interpretare, applicare e in qualche modo gestire e rendicontare tutte le attività collegate alla fruizione dei fondi messi a disposizione dall'Unione Europea. Questo è una figura professionale per il futuro. Solo forse, ahimè, dopo la pandemia abbiamo preso coscienza di quanto l'Europa possa contribuire alla crescita politica, sociale, economica dei vari Stati membri. Formiamo dei professionisti, degli europrogettisti che siano in grado di saper rispondere a quelle che sono le esigenze che hanno portato ad elaborare i bandi da parte delle istituzioni europee. Per i ragazzi dell'Istituto Galileo Galilei, l'Europa non è un sogno, ma è la realtà che vivono ogni giorno. L'Europa è per voi! L'Europa non è un sogno L'Europa non è un sogno L'Europa non è un sogno Grazie a tutti.